Accedere al bonus nido nelle aree interne del paese è pressoché impossibile, perché mancano gli asili nido e le famiglie non riescono a utilizzare quelli dei cosiddetti comuni polo, già saturi per via degli iscritti in crescita e garantiti dalla residenza. Una problematica che interessa da vicino anche il comprensorio valdianese. Secondo i dati di Open Police, nei comuni ultraperiferici vi sono solo 10,3 posti di asilo nido ogni 100 residenti, di età compresa tra gli 0 e i 2 anni. Nei comuni periferici il dato sale a 13 e a 14,8 nei comuni intermedi. Così accedere al bonus nido per le famiglie è impossibile, evidenzia il vicepresidente nazionale di Uncem, Vincenzo Luciano. Nei comuni dove non c'è il nido è più facile assistere a una migrazione del nucleo familiare, che non ha modo di restare perché ha bisogno di servizi che non trova. Si inizia così con i bambini piccoli a pensare di trasferirsi altrove. Purtroppo è sempre più ricorrente trovare nei comuni senza nido delle forme non temporane, permanenti, aperte ogni giorno e inquadrate nell'ordinamento giuridico, di assistenza per i bambini più piccoli, costruite di concerto con i comuni dalle famiglie o da giovani maestri laureate. Che non possono accedere al bonus nido rinnovato con la legge di bilancio, evidenzia Luciano, non va bene. Gli asili non ci sono e fino a quando non verranno realizzati, con le risorse recentemente stanziate dallo Stato, occorre contemplare e accettare che i genitori scelgano altre forme di assistenza, di formazione e di socializzazione. In questa direzione, conclude il vicepresidente Uncem, non vanno penalizzati ulteriormente escludendoli dal bonus.